Salve ragazzi cari amici del web, sono Andrea Bruno, un saluto a tutti quelli che mi conoscono, sono qua per fare un auguro, un ospicio per l'anno che verrà, mi auguro che sia un bellissimo 2014, però il 2013, se devo riassumere tutta, non è stato un anno entusiasmante, anzi è stato un anno ricco di gente ammazzata, di morti, persone nostri connazionali disperati che non ce l'hanno fatta più e la cosa mi rammarica, mi ha molto rattristato per cui il messaggio di questo fine anno non può essere un messaggio positivo, assolutamente non può essere positivo, esorto tutti i miei connazionali, tutti coloro che credono nella possibilità di creare un'Italia che funzioni, un'Italia che non abbandoni nessuno a combattere, a combattere affinché verrà riportato uno status di democrazia nel nostro paese, questo può essere possibile però dobbiamo crederci tutti quanti. Ok ragazzi il mio messaggio finisce qua, combattiamo tutti e facciamo in modo che il prossimo anno che verrà non sarà un reciclo dell'anno che è passato perché un anno che veramente ha fatto paura, il mio cuore in questo momento è solidale con tutte le famiglie nelle quali è venuto a mancare un loro cavo per colpa della mal politica e per colpa del mal governare il nostro paese. A voi familiari vi garantisco che noi riporteremo nel nostro paese dignità e democrazia. Ciao a tutti.